Mi dispiace per quello che è successo. Ah, può capitare. Un tempo no. Lo spirito è forte, Kappa, ma... il resto non più. Sono belle, non è vero? Cosa? Le stelle. Non le guardiamo più. No. Immagino che... mi mancherà la caccia. No, Dean. Ti sbaglio. No. No. Grazie a tutti